classe A2 no, classe A3 classe A3 ripeto, 44, Monti Gianfranco partito a 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